Buon 25 aprile, inviamo un caloroso abbraccio a tutte le compagnie e compagni del Centro Studi Sereno Regis di Torino, in particolare alle ragazze e ragazze del gruppo Became Viral che abbiamo incontrato nel nostro percorso di militanza antifascista contro il razzismo, la violenza e l'odio. Ilaria, Giovanni, Silvia, Benedetta, Alessandro, Fabio, Giorgia, Carlo, Iana, Roberta e tutti gli altri con i quali proseguiremo attività e collaborazioni. Diversi fra noi hanno seguito nel tempo dei corsi, iniziative e convegni organizzati dal Sereno Regis, uno dei centri di educazione alla cittadinanza e formazione non violenta più importanti della Repubblica, sempre presente all'iniziativa del 25 aprile. Il 25 aprile ha un profondo significato di pace. La guerra di liberazione contro il nazifascismo fu combattuta per terminare la seconda guerra mondiale, avrebbe dovuto essere l'ultima guerra della storia umana. Non a caso fu elaborata nel 48 la dichiarazione universale dei diritti umani, proprio a partire dalla sconfitta dei nazisti e dei fascisti nel 1945. Siamo impegnati insieme per la pace e l'antifascismo, per i diritti e le attuazioni della Costituzione, a partire dall'articolo 11 con cui si afferma che l'Italia ripudia la guerra. Ecco, noi ci battiamo per la sua concreta attuazione, vorremmo che si investisse meno nell'industria bellica e di più nel settore sanitario, culturale, scolastico, scientifico, ambientale e sostenibile, che riguardi la vita dei cittadini, quotidiana, come il lavoro. È una questione di scegliere quale direzione si vuole prendere nel presente e per il futuro. Noi abbiamo scelto da che parte stare, abbiamo scelto di batterci per la libertà, la giustizia sociale e l'uguaglianza in ogni ambito della nostra vita. Porteremo avanti sulle nostre gambe l'esempio delle partigiane e dei partigiani che illumina i nostri passi anche quando la notte sembra buia e costellata di pericoli. Camminiamo insieme, fianco a fianco, e in questo 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo orientiamo il nostro comune impegno alla luce delle stelle partigiane, di chi ci ha preceduto nella lotta permettendoci di portare avanti la nostra. Viva la pace, viva il sereno Regis di Torino, buon 25 aprile e buona resistenza.